bella ragazzi ci arriviamo a 600 mi piace per questa nuova serie insieme a Deid marci burlone bella a tutti ragazzi sono marci benvenuti in questo nuovo episodio della crash landing ragazzi e per chi si fosse perso il primo episodio episodio zero non so come sarà lo troverete sul canale di Deid che trovate in descrizione l'episodio è uscito oggi alle 2 e niente se avete capito ci alterneremo gli episodi e Deid dopo tanto tempo dopo la worldcraft torna sul canale ciao Deid ciao bambini come state allora nel primo episodio ragazzi abbiamo fatto un piccolo proprio piccolo abbozzo di casa perché questa mod è veramente bella estrema e tutto quindi niente ci siamo messi a posto Deid ci consigliava di iniziare a fare le cose della tinker construct quindi adesso cosa dobbiamo fare Deid dobbiamo fare tipo i seta i pattern bisogna fare inizio a fare i pattern ti do già la roba e faccio quello blank pattern i blank pattern fanno tipo 4 ok si me lo ricordavo che si faceva così ok metti un pattern sopra ah no mi stai facendo ok vai 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 fai pattern che sono le cose più importanti ok lo metto qua ok se io metto un blank pattern sopra una birchwood ci da un park builder ok giusto che serve praticamente a craftare in vabbè mettiamoli fuori all'inizio poi portiamo tutto dentro perché comunque la casa è piccola e se ci mettiamo la roba nostra ok il park builder serve nient'altro che a craftare gli oggetti grazie ai pattern e a craftare le varie parti delle nostre armi questo qui è la prima cosa poi rientriamo dentro si diamo la nostra crafting dobbiamo fare dire di chiuderci perché altrimenti moriamo male poi se invece prendiamo una wooden plank se metti un pattern sulla wooden planks metti metti ok ci fa lo stencil che è quello che lo mettiamo a fianco si poi mi sembra che è praticamente lo stencil table è quel tavolino lì che dove metti i pattern lui ti crea i vari i vari pattern degli strumenti praticamente ti metti un pattern e ti può dare il pattern della testa del piccone il pattern della croce che mantiene la testa del piccone il e il manico il manico del piccone tutte le parti dei vari strumenti ci tocca fare anche tipo il tool station se non mi sbaglio giusto si il tool station si fa con no ce l'ho ce l'ho vieni qui la crafting table l'ho già craftata arrivo aspetta ok serve una crafting table no ce l'ho ce l'ho guarda ce l'ho qua metti la crafting table bisogna fare aspetta leva che non ho i pattern facciamone altri due perché ci si fanno i due tanto servono sempre i pattern e abbiamo anche il tool station che mettiamo sempre fuori ma che dai meglio non prendetela male ma la crashing land se noi ci mettiamo subito a stare fuori di notte probabilmente ci ammazzano malissimo c'è evitabile ragazzo e tipo se evitabile che è consigliabile evitare il restare fuori di notte al che poi ci siamo anche oddio dei cosa ho visto in lontananza guarda la cosa c'è che culo corri marci corri che c'è il pane tu lo sai che sono gli stencil lì dentro e non tu ti rendi conto che non posso più correre tieni tieni un po di panni ma pane pane te ne ho buttate tre pezzettini grazie tvb sento la gatta del server che quando decide di salvare decide che dobbiamo pagare tutti ok ragazzi siamo qua nel villaggio innanzitutto abbiamo trovato anche la cesta quella la pattern cesta e guarda quanti stencil c'è vieni a vedere già fatti porca puttana oddio oddio ci sono già le cose fatte di copper le teste dei picconi no 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 rega no rega che culo quelle di copper vado un attimo quello di con e quello di copper sono tutte e due ottimi ok prendo anzi prendo tutto si intanto io guardo un attimo o anche di qua tutto pieno come che si faceva ok così perfetto i pattern o mamma mia quanti stencil pieni che c'è qua bisogna venire tipo con un cestino non ci sono tipo le bag non lo so bisogna controllare bisogna controllare sì ok aspetta che io posso già due picconi posso graftare già due picconi metto questo qui guardate ma sono incompatibile per caso hai copleston no aspetta devo riuscirmi a fare il piccone comunque non so se ne sono accorti loro ma c'è anche tipo una miniera ragazzi già scavata si si è praticamente abbiamo beccato il villaggio p perché in questo villaggio ci hanno già tutto cazzo c'è anche il fabbro non vorrei dirti dei vedi che cosa dovrebbe darti roba cosa aspetta venire a vedere cinque mele ah è buono eh cioè almeno quello ah niente pezzi d'oro che palle è di ferro volevo di no purtroppo che 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 tirchi come c'è niente over 9000 che cazzo è qui non c'è niente io controllo un po tutto così almeno così almeno siamo sicuri no ma non c'è niente oddio però ci sono delle pecore io le prenderei e piccole pecore di merda oh mi ha dato no mi ha dato la carne la pecora non mi ricordavo ah si ma la mod che comunque sto morendo di cibo io non vorrei dire non vorrei dire ragazzi stai morendo di cibo di cibo stai morendo addirittura si ma la vela da mezzo impossibile si ma tutto da mezzo eh ma ma io muoio così non so se sei accorto ma tutto da mezzo ma ci muoio di cattiveria così quello è il bello è proprio quello è il bello allora qua non c'è niente ok comunque io sto facendo le sto facendo i piccoli di cobblestone ok a me interessa un attimino sapere questa miniera qua sotto cosa ci dà di interessante perché quella miniera lì sotto adesso andiamo a vederci subito cosa c'è anche se suppongo che effettivamente ci servirebbero le torce ma che cazzo non posso farmi i piccoli per nessun motivo oh mio dio quanta redstone che c'è oh mio dio ma diamante possiamo diamante tu lo sai che nei miei episodi diamante il primo episodio c'è sempre sì marci ma non possiamo farci il piccone di cobblestone della tinker perché il piccone c'è questi questi cosi di cobblestone non possono essere usate per fare delle si parla le tue con calma ragioniamoci come cazzo si chiama non si usa per fare gli utensili ma solo per fare i cast quindi dal ferro in su dobbiamo dobbiamo arrangiare con la roba di cobblestone e legna e spaccare due cose per volte capisci no non mi dire così date non mi dire così eh l'ho appena fatto ma si allora aspetta un attimo io qua ho altri utensili però eh copper ho un copper pan però non ho cibo come un copper pan dammi fammi vedere dammi la roba in copper che c'hai fammi vedere che cosa hai tieni allora uno due tre quattro cinque sei un pasito sbailante maria un pasito sbailante maria aspetta che forse riesco a farti un piccone di copper a te così almeno possiamo già scendere nella miniera oh ma guarda che queste cose qui si possono mangiare cosa? queste cose che trovi per te ara le ciliegie prendile si 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 ciliegie non so sono ciliegie eh sono grape si sono uva ma grape è uva vero raga? anche mo mi viene qui ehm si la ci sono delle zucche non vorrei che servisse marci vieni qui dove sei? un mesito bailante maria dove sei? dove cazzo sei andato marci? ok ci sono ci sono pieni pieni che ho fatto piccone di copper ragazzi proviamolo tanto avrà due utilizzi ti prego no gesù vieni giù andiamo a me aspetta aspetta crafto del pane che ho rubato il grano dai villageri qui ok ho quattro pagnotte quattro pagnotte allora ah come utilizzi novantotto allora se è vero se è vero siamo meno nella merda cosa che hai novantotto utilizzi? eh almeno novantotto è novantotto è novantotto ah si? il diamante è niente si può prendere il lead però no fino fino al ferro possiamo minare prendi il ferro marci perché la cosa ferro è oro che ci serve ok l'oro non possiamo prenderlo come no porca puttana e vabbè però adesso che ci abbiamo il ferro poi ci serve fare la tinker quindi io inizio già a rompere la gravel perché è una cosa che ci serve tantissimo ok si si no infatti prendi la gravel eh oh io cerco un po' di oro qua nelle vicinanze perché si si prendi l'oro perché si oro ancora volevo dire iron però vabbè eh si devono farci per forza i cast per la fonderia eh se no come facciamo anche se fossimo stati leggermente più fortunati tutti ballano tranne te il tuo dream esatto fossimo stati leggermente più fortunati avremmo potuto trovare anche il tizio della tinker nel villaggio però purtroppo non ci è andata così bene no it stroke eh non so cosa sia penso sia il caldo cosa? penso di aver preso il caldo eh si no se vedi le goccioline significa che stai sudando si ho 39 gradi oddio anch'io perché siamo sotto terra si saliamo va saliamo raga e continuiamo il prossimo episodio perché vogliamo vedere se vi piace la segna lasciate un mi piace un commento mi raccomando la cosa più la cosa più importante e quando non sei morto lasciamo perdere un like e un commento cerchiamo di arrivare a tanti like iscrivetevi al canale di Adai che trovate in descrizione nei prossimi episodi troverete il nei prossimi sì va bene io non so più parlare nei prossimi giorni troverete il video ah la dislessia è bella sul canale di Deid quindi ci vediamo ad un prossimo video da Marce di Deid è tutto bello ciao bella